ciao a tutti oggi 15 novembre 2013 quasi un mese esatto dalla fine delle riprese di io arlecchino abbiamo lasciato ormai da tempo la val brembana i bellissimi paesaggi che fanno da sfondo alla nostra storia e siamo qui oggi a londra nel quartiere di shepherd bush come vedete alle mie spalle michele sta già iniziando il montaggio del film siamo già una fase avanzata di quella che viene definito lo script cut in questa prima fase dello script cut michele ovviamente prende una serie di decisioni per quanto riguarda performances inquadrature ma ancora si esime da prendere delle scelte di tipo editoriale ovvero non non andrà a tagliare o eliminare o a spostare scene ma sarà diciamo fedele a quello che è la sceneggiatura di partenza perché in questa fase di montaggio è giusto ed è corretto ed importante vedere il film così come era stato pensato in sceneggiatura e solo successivamente inizieremo a capire se il film necessita di invece intervenire di di altro tipo è sicuramente una fase molto delicata e molto e molto bella perché a distanza appunto di un mese e finalmente potremo vedere quello che abbiamo fatto e se il duro lavoro di queste quattro settimane di riprese ha dato i suoi effetti allora ci aggiorniamo nelle prossime settimane un saluto dalla casa montaggio di londra e a presto a presto